Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi ruoli importanti anche per quanto riguarda la carne suina e gli altri tipi di carne minori. Significa che circa il 30% della produzione lorda vendibile di Verona, che è di 2.500 milioni, cioè 2 miliardi e mezzo, e perciò circa 700 milioni di euro, solo per la parte produttiva, è rappresentato dalle carni. E questo la dice lunga sul fatto che Verona è la prima provincia d'Italia in pratica. Certo. Quest'anno c'è stata una piccola diminuzione soprattutto nelle produzioni di carne bovina e suina, mentre la Vicunicolo mantiene i dati degli altri anni. Ecco, lei ci parlava di un calo di produzione quest'anno, calo di produzione e anche un calo di reddito del comparto, questo anche a causa dell'embargo russo. Ecco, come si può quantificare questo danno? Quali azioni sono state messe in atto dagli allevatori per sopperire a questa perdita? Ah, purtroppo l'embargo russo e non solo sulla carne, perché anche sull'ortofrutto e sull'attiero caseario ha portato tutti i suoi nefasti, diciamo, conseguenze. Purtroppo non ci possiamo fare nulla, perché è stato calato dall'alto da un accordo internazionale, soprattutto voluto dall'America e dalla Merkel, che poi anche l'Italia ha subito. Nessuno si rende conto, penso, in maniera giusta dell'effetto negativo che questo ha, non solo per la diminuzione dei valori che abbiamo esportato, ma direi ancora soprattutto per il fatto che i canali che ci eravamo costruiti dal punto di vista commerciale sono in pratica ora inesistenti, si rischia di essere sostituiti dagli altri paesi, soprattutto per quanto riguarda le carni dall'America Latina e nello stesso tempo qui non si vede all'orizzonte nessuna soluzione. Se le cose vanno avanti ancora così, io penso che ci siano veramente dei disastri dal punto di vista delle aziende per quanto riguarda l'embargo russo. Ecco, lei poco fa parlava di Stati Uniti e di America, potrebbe in qualche modo arrivare un aiuto dalla possibilità di scambio di merci con gli Stati Uniti? Parliamo di possibilità e di pericoli che arriverebbero dal trattato di libero scambio delle merci tra Stati Uniti ed Europa? So che alcuni la pensano così, a cominciare dal nostro amico De Castro, io dico che prima bisogna che guardiamo le carte, perché quando ci sono questi accordi che non conosciamo nei particolari, io sono sempre molto ma molto scettico, soprattutto se andiamo a fare un accordo con un paese grandissimo, dove c'è anche forza economica rilevante, e dove hanno anche loro da esportare non tanto prodotti agricoli, ma soprattutto altri prodotti che possono mettere in difficoltà però il mondo agricolo se non vengono rispettate alcune elementari regole di tracciabilità e di sicurezza. A tal proposito abbiamo citato l'onorevole De Castro, noi adesso abbiamo un contributo, abbiamo realizzato un'intervista all'onorevole a Verona, vi ricordo che Paolo De Castro è coordinatore per il gruppo dei socialisti e democratici della Commissione Agricoltura e Sviluppo del Parlamento Europeo ed è stato nominato di recente referente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo per i negoziati di libero scambio tra Unione Europea e Stati Uniti. A che punto siamo con il negoziato transatlantico in corso tra Unione Europea e gli Stati Uniti? Ancora all'inizio, se il negoziato con il Canada è durato sette anni è difficile immaginare che in poco tempo si possa concludere questo importantissimo negoziato con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono circa dieci volte la dimensione del Canada, 350 milioni di abitanti, interessi enormi, basta citare che tra Stati Uniti e Europa c'è circa un terzo del commercio mondiale, per cui certamente noi ci auguriamo che queste elezioni di metà termine negli Stati Uniti possono accelerare in modo da arrivare ai primi mesi del 2016 con un accordo, altrimenti bisognerà poi aspettare le elezioni presidenziali americane se arriverà dopo il 2018. Quali sono le opportunità e le minacce per l'Europa e per l'Italia? Beh, innanzitutto ricordiamo a tutti che il Parlamento Europeo ha potere di veto, per cui se il risultato negoziale non ci convince, il Parlamento Europeo poi lo boccia. Non solo, ma dopo il Parlamento Europeo deve essere ratificato da tutti i Parlamenti dei 28 Stati membri. Quindi direi che c'è un controllo democratico su questi accordi commerciali straordinario. Naturalmente ci sono i rischi e le opportunità, è lì che dovremo valutare. Ha negoziato finito se sono più interessanti le opportunità o sono maggiori i rischi. Una cosa è certa però, non c'è nessun rischio su materie di cui l'Europa ha già legiferato. Noi sugli OGM abbiamo le nostre norme, le nostre leggi, non le cambieremo per via dell'accordo commerciale. Così come tutti quegli standard di cui noi siamo orgogliosi, che noi certamente non modificheremo a causa dell'accordo commerciale. Diversamente è chiaro che nell'equilibrio dare e avere, dazzi, barriere sanitarie, beh lì dobbiamo stare attenti, visto che l'Europa ha un saldo attivo, perché noi esportiamo di più di quello che importiamo. L'Europa esporta circa 17 miliardi di euro di prodotti alimentari e ne importa circa 10 di prodotti, soprattutto materie prime agricole. Quindi avendo un saldo attivo abbiamo molto interesse affinché gli Stati Uniti aprano di più, ci tolgano queste barriere sanitarie, ci tolgano questi dazzi. Naturalmente anche gli Stati Uniti sono interessati che l'Europa faccia lo stesso, perché non è che possiamo pensare che siano solo loro ad aprire e noi continuiamo a tenere chiuse le frontiere dell'Europa. Deve esserci appunto un equilibrio. Noi siamo stati nominati con questo scopo, proprio di verificare il lavoro dei negoziatori. Io mi recherò a Washington a metà di gennaio, appena avrò il mio omologo eletto in congresso americano, e così congresso e Parlamento europeo lavoreranno proprio per verificare che i negoziatori facciano un buon lavoro. Bene, abbiamo sentito l'opinione dell'onorevole De Castro, e quindi Presidente, secondo lei quali possono essere i rischi di questo accordo? Io devo dire di condividere con De Castro un'impostazione di metodo, cioè finché non sappiamo bene di che cosa si tratta, è anche difficile dire se ci sono più le opportunità che i rischi. Quello che mi preoccupa è che vengano riconosciute le denominazioni di origine, e siccome so che gli Stati Uniti su questo non è che ci sentano molto, se per caso in questo accordo non venisse riconosciute le DOP, l'IGP, le DOC, eccetera, cioè quelle produzioni che hanno intorno a sé il vincolo del territorio, noi saremmo spacciati, perché solamente riuscendo a dire questo prodotto lo facciamo solo nel Veneto, solo in Italia, eccetera, e viene riconosciuta appunto la denominazione di origine, allora possiamo pensare di avere un vantaggio, ma se mettiamo tutte le produzioni in un calderone solamente per mescolare tutto, per noi sarebbe esistiale questo. Bene, grazie veramente molte al nostro ospite, e ora passiamo all'agenda della settimana. Scade oggi il bando INAIL-FIPIT, che finanzia le piccole e medie imprese operanti nei settori dell'agricoltura, per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica, mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi del lavoro. Tutte le informazioni sul sito dell'INAIL. È prorogato al 22 marzo 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole. La proroga si riferisce esclusivamente alle macchine agricole, cioè ai trattori agricoli e forestali, ai carrelli semoventi a braccio telescopico, se questi ultimi omologati come macchine agricole, anche nel caso di noleggio. Tutte le informazioni sul sito sicurezzasullavoro.inail.it E per quanto riguarda la buona notizia, oggi vi vogliamo parlare di un progetto di sostenibilità, ed è il progetto di Carni Sostenibili, trovabile e reperibile sul sito www.carnisostenibili.it. Questo progetto è nato dalla comunione di intenti di tutte le associazioni e delle principali associazioni di categoria a cui fa riferimento il mondo della carne, Assocarni, Assica e Una Italia. Il sito si propone di trattare in modo trasversale tutti gli argomenti legati al mondo della carne. È un progetto senza precedenti in Italia, che con un approccio formativo ed informativo vuole contribuire ad un'informazione equilibrata su salute, alimentazione e sostenibilità. E adesso vi salutiamo ricordandovi la nostra mail di redazione che è a.agricoltura.gmail.com e vi ricordiamo che potete seguirci sempre anche su Twitter e su Facebook. E nel salutarvi vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie.